Benvenuto! Secondo il protocollo attuativo delle linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, è obbligatorio l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano la possibilità di tracciare l'accesso alle strutture di coloro che partecipano alle attività sportive per il tramite di applicativi web o device mobili. Le strutture che abbiano una possibilità di capienza inferiore a 50 persone in contemporanea nelle aree di allenamento sono esentate dall'obbligo di utilizzo di soluzioni tecnologiche o applicativi web. ICS ha quindi istituito per i suoi soci il registro presenze online gratuito. Basta cliccare sulla piattaforma di tesseramento icsnetwork.net. In alto nel menu sotto la voce soci si potrà scegliere l'opzione presenze soci tesserati. Cliccato su presenze si aprirà una finestra con il riepilogo per data delle attività svolte. Per inserire una nuova presenza basterà cliccare su nuova presenza, inserire data, cliccare su soci e scegliere tra tutti i soci tesserati quelli che saranno presenti alla data attività. Scelte le presenze da indicare cliccare sul tasto conferma. I soci singoli avranno poi la possibilità di inserire in autonomia la propria presenza. Potranno farlo solo se l'associazione o la società sportiva di appartenenza li abiliterà all'accesso fornendo loro le credenziali di accesso alla pagina presenze, vale a dire utente e password.